bentornati nel canale youtube di olio e ti voglio amaro e piccante oggi siamo in toscana torniamo in toscana nuovamente andiamo alla fattoria ramerino in provincia di firenze società agricola a bagno ripoli di filippo alampi oggi assaggiamo invece un altro prodotto della sua linea un prodotto sempre biologico della campagna olearia 2019 ed è un monocultiva in purezza di frantoio andiamo ad assaggio vediamo che sensazioni ci regala questo prodotto franto nella campagna olearia per 2019 come dicevamo quindi un prodotto molto fresco dell'annata precedente fruttato verde di media intensità mandorla fresca carciofo erba falciata andiamo all'assaggio amaro medio intenso sensazione di piccantezza media ottima la fluidità e la freschezza di questo prodotto complimenti complimenti a filippo alampi per i prodotti che ogni anno ci regala l'alta qualità dei prodotti che ogni anno ci regala nonostante le problematiche di campagna che spesso accadono grazie filippo e grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e vi aspetto il canale youtube di olio e per altri assaggi di altre cultive nazionali a presto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.